Ah, mattina presto, svolgiamo il nostro lavoro. Oh, finalmente sono venuti a spazzare un po' via questa spazzatura. Ecco fatto. Ecco. Bene, rimettiamo il cestino a posto e ce ne possiamo andare. Ecco, un altro cestino. Forza, ruotiamolo. Ecco fatto. Ora ce ne andiamo un pochino in discarica. Eccoci qua, siamo arrivati in discarica. Ecco fatto. Ciao, ciao.